Ciao a tutti, in questo video ti svelo in che modo si manifestano i disturbi paranoidi del narcisista nella sua quotidianità e come metterlo sotto scacco. Insisto nel dire che la cosa migliore da fare sarebbe quella di attuare in no contact, ma se ancora non riesci a distaccarti emotivamente oppure non hai una situazione economica che non ti permette di farlo, allora dai scacco matto al narciso. Il narcisismo e la paranoia sono patologie ben distinte ma in molti casi collegate. Il disturbo paranoide di personalità è caratterizzato da una grave diffidenza verso le altre persone che permane anche in mancanza di concrete minacce. Il soggetto che manifesta una personalità paranoide è incline a equivocare gli avvenimenti in maniera puramente ostile e avvilente. Il narciso vive nella costante paura che le persone possano approfittarsi di lui e si sente continuamente minacciato dal mondo esterno e questo è uno dei motivi che il narcisista non si fida di nessuno. La paranoia è una forma di controllo ossessivo compulsiva che il narciso mette continuamente in atto con la sua vittima. Lo stesso comportamento si verifica anche sul piano lavorativo e familiare dove il narcisista ha l'esigenza incontrollabile di avere il totale dominio su tutte le situazioni. Infatti la classica maschera narcisistica funge per eclissare vari lati nascosti tra i quali la paranoia. Ma scopriamo in quali contesti narciso manifesta il suo disturbo paranoide. Il timore di essere smascherato, la paura di essere odiato, il terrore di essere tradito, l'ossessione di essere trattato male, la fissazione di prendersi malattie o ammalarsi, l'idea che gli altri pensino male di lui, l'ansia continua di essere abbandonato, l'incubo di essere sminuito e umiliato, l'angoscia di essere triangolato. Per mettere sotto scacco il narcisista ci serviremo proprio della sua paranoia amplificandola all'ennesima potenza. Ecco in quale modo farlo. Quando ti chiede di fare qualcosa tu digli di sì ma poi non farlo. Fagli credere che hai sentito alcune persone parlare male di lui. Semina zizzania nella sua vita. Non dargli attenzioni. Non tenerlo più in considerazione. Quando cerca di convincerti su un qualche cosa digli semplicemente non ti credo. Quando ti propone qualcosa fagli intendere che lo terrà in considerazione e alla fine non farlo. E se lui in seguito ti chiede se hai valutato ciò che ti ha detto rispondigli che hai scoperto altre alternative sicuramente più valide e interessanti delle sue. E se lui insiste dicendoti perché non me l'hai detto tu rispondi che glielo avevi riferito. Questa tecnica ha il significato di capovolgere il classico gaslighting. Mentre se hai intenzione di chiudere la relazione gli puoi dire semplicemente mi sono innamorata di un altro. In questo modo vai a creare nel narcisista una forte confusione mentale destabilizzandolo provocando in lui una certa dissonanza. Ma lo scacco matto vero e proprio è quando sarà in grado di sganciarti con la massima indifferenza ignorandolo completamente e facendogli presente che tu sei felice senza di lui. E tu hai dato scacco matto al tuo narcisista? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche per i nuovi video. Grazie per avermi seguita.